La Commissione parlamentare ha voluto ascoltare anche il parere del Sindaco e la situazione della città, io ho sottolineato il lavoro che fanno le forze e l'ordine la Polizia Municipale, quello che cerca di fare l'amministrazione contro le attività criminali, ma anche ho voluto sottolineare per favorire l'emersione dal nero di attività che non sono criminali ma semplicemente non regolamentate o non autorizzate, chiamiamolo l'ambulantato itinerante, cioè chi vende prodotti che non sono contraffatti, quindi non c'è reato, però non sono autorizzati noi proviamo quando ci sono delle condizioni ad autorizzarli e che invece deve essere rafforzato il contrasto soprattutto alle organizzazioni criminali che stanno dietro alle contraffazioni. Poi c'è sì la vendita al dettaglio dove noi impieghiamo anche tanto personale della Polizia Municipale, ma lì è un tema soprattutto poi di prevenzione e repressione del crimine che è un'attività che compete a forza dell'ordine magistratura. C'è anche un tema di tutela della salute sia del consumatore quando si tratta di un prodotto contraffatto che può essere nocivo alla salute della persona, ma anche un danno all'ambiente perché sappiamo che le industrie che producono materiale contraffatto poi facendo attività criminale sversano anche nei fiumi, nelle campagne, nei boschi e quindi si crea un danno forte anche all'ambiente salubre e alla salute. Quindi credo che c'è anche un po' talvolta una sottovalutazione da parte di tutti di cosa significa la contraffazione, intendo dire quella grave, quindi non si va dietro alla vendita al minuto, al dettaglio, ci vuole una concentrazione soprattutto sulle organizzazioni che spesso sono anche non solo di criminalità comune, ma anche di criminalità mafiosa.